Non trovo giusto che debbano dare dei soldi per fare le veci di un'altra persona. Il sindaco se è stato eletto deve avere le palle per essere sindaco. La richiesta di trasparenza è trasversale e a chiederla sono i padovani che oggi commentavano così la notizia della discussione segreta in Consiglio Comunale sullo stipendio d'oro del portavoce del sindaco Giordani. Si tratta di soldi pubblici e dunque la cittadinanza deve sapere come mai è stata stabilita una cifra così elevata, circa 80 mila euro annue, per le casse comunali. Il tema della trasparenza va oltre l'attacco politico delle opposizioni, un tema sensibile per i padovani che gli amministratori, eletti appena due mesi fa, chiedono appunto di rispettare le promesse di cambiamento e trasparenza tanto paventate durante la campagna elettorale. La seduta pubblica quindi? Penso proprio di sì, perché non c'è niente a nascondere, insomma uno fa un servizio alla città è giusto che abbia il stipendio anche adeguato, sarebbe tanto. Per il momento è troppo presto, non si vedono cose diverse. Tutto uguale? È tutto uguale, bisogna attendere i tempi della politica.